Un bel applauso, fuori la voce, fuori le mani per Simone Cesare! Ok, passiamo dalle due alle quattro ruote, quest'anno anche lui in Libria Orange, quindi sul KTM 525 fatemi sentire la voce per Luca Bertò! E passiamo alle motore crossa, alle gomme artigliate, con il ciuffo ribelle, che vi dà il visuale quando vi do la sua casca, ragazzi, fatemi un po' sentire le mani per Mattio Schiaveni! Qui siamo in Orange, sempre, sempre il KTM, sempre un Declare della IDS, ragazzi, un piacere e un amore avere anche con noi Davide Red Rossi! E poi la Iana, che veramente ci fa sognare una volta che prende la via della UEP, sono lui, sempre il numero 18, Carlo Calesana! E infine, infine, abbiamo sempre loro, l'onda capitanata dal nostro Highlander, dal nostro riducibile, unico e solo, Mickey Monti! E per chiudere, ragazzi, voglio un applauso speciale perché è davvero una grande pilota e lo dimostra ogni qualvolta si porta in sella della sua KTM, un po' di rumore per Tony Ondiera! Ok, ragazzi, il secondo show finisce qui, da Pastor Edmund è davvero tutto, vi ricordo, se volete, il fotografico e i Liders, potete farlo, basta raggiungerli alla mia sinistra, allo stand KTM, loro vi aspettano, vi ricordo che alle 18 ci sarà un terzo e ultimo appuntamento, grazie davvero di farlo!